La chiesa della Grotta Rossa, zona nella quale viveva, lo ha accolto per l'ultimo saluto. Intorno a lui il calore della famiglia, della moglie Pasquina, dei figli Morena, Andrea, Simona, dei cinque nipoti e dei tanti amici e appassionati di moto. Massimo Tamburini, riminese, classe 1943, è stato il padre di alcune delle più belle moto del mondo. Oltre che alla società idrotermica Bimota, il suo nome è infatti legato alla storia di marchi come Ducati, Cagiva e MV Augusta. Si è spento dopo una lunga malattia nella notte tra venerdì e sabato, a 71 anni. L'amministrazione comunale, che due anni fa lo insignì del Sigismondo d'Oro, era presente con il gonfalone listato a lutto. Un grande artigiano recitava la motivazione del riconoscimento che ha saputo raccontare uno degli amori più grandi della gente di Romagna, i motori. Ha trasformato la sua passione nella concretezza di prodotti industriali che hanno segnato la storia del motociclismo. Fondato il centro di ricerche Cagiva di Val Dragone nel 92, lo ha diretto fino al 2008. Nel 1971, alla guida delle sue moto, c'era il campione del mondo Giacomo Agostini. Nei 35 anni di attività nel settore motociclistico, le moto, progettate da Tamburini, hanno vinto 18 titoli mondiali, 20 titoli italiani e diversi altri titoli internazionali.